Dopo 40 anni di intensa attività, Roberto Meschini ha deciso di celebrare questo importante anniversario con una mostra personale organizzata presso lo spazio espositivo Via Cavour 85, curato come noto da Daniel Villicana d'Annibale e aperta fino al 7 maggio. Roberto Meschini è un artista sicuramente dotato di talento e altrettanto sicuramente eclettico, eclettico perché dai suoi esordi fino ad oggi ha percorso ed affrontato tematiche molto diverse da una bella pittura di paesaggio fino alle allegorie degli ultimi lavori. Non per caso la mostra si intitola Allegorie controcorrente perché davvero riprendendo antichi temi e addirittura antichi attributi iconografici Roberto Meschini attraverso uno stile ora arrivato a una prima importante maturità, quindi uno stile che non tradisce il figurativo, che non tradisce il disegno tra l'altro egli stesso è stato un grande, è un grande incisore e un grande disegnatore, però in uno stile diciamo sfumato come se queste figure emergessero da un infinito, da una dimensione molto profonda e anche confusa emergono allegorie come quella della giustizia perfettamente calate con il tempo contemporaneo. Una mostra quindi che vuole far conoscere un talento sicuramente retino sebbene noto anche fuori dei confini cittadini.